Consigliere, oggi gli ultimi preparativi per domani? Per domani perché in Commissione Terza sono relatrice del progetto di legge per la leva civica volontaria regionale. Di cosa si tratterà? Dunque, si tratta, intanto c'è una legge nazionale, la 64, di questa leva civica, quando hanno iniziato gli obiettori di coscienza a non voler fare il servizio militare e quindi si è fatto questa normativa. Farne una regionale significa, visto che comunque ne abbiamo pochi noi perché vanno molto a sostegno sociale al sud, avere una possibilità e un'opportunità per tutti i giovani fino ai 32 anni di poter fare un servizio a due valenze. Uno, aiuta questi giovani oggi ad avvicinarsi alle istituzioni, a sentirsi, a diventare cittadini veramente con diritto di cittadinanza. Due, renderanno un servizio ai vari settori dove si impegneranno. Crede che i giovani seguiranno e lo faranno? Io credo di sì perché comunque i giovani nostri sono un po' preoccupati, delusi, ma anche un giovane studente può coniugare lo studio con la leva civica che ha durata massima di un anno, può essere anche di sei mesi. Ha un piccolo stipendio, all'incirca 400 euro al mese e rende un servizio un po' a se stesso nella crescita, nella formazione e alla comunità laddove opera.